Penso che sia una cosa molto importante perché lo sport rappresenta molto in Italia e non solo e quindi penso che comunque una specializzazione dello sport sia molto molto importante anche perché secondo me ci sono spazi per i giovani che finiscono lo studio. Io cercherò di portare la mia esperienza personale, io ho cominciato da ragazzino a correre in bicicletta sono diventato un professionista perché lo sport è diventato un lavoro e quando poi ho finito, ero alla conclusione della mia carriera ciclistica ho pensato a quel che potevo fare dopo sono diventato commentatore tecnico e da commentatore tecnico sono diventato commissario tecnico quindi più che altro cercherò di portare la mia esperienza e quello che mi è successo nella mia vita. Il movimento è in salute, sicuramente le nazioni emergenti ci hanno tolto un po' di spazio, un po' di vittorie però mi sembra che comunque la situazione non sia così drastica dal punto che comunque...